Hai distrutto il 68% della forza dell'inferno. Senza sacerdoti i demoni non consumeranno la terra come vuole la Khan Maika. Ma resta ancora un sacerdote e ho perso il suo segnale. Non riesco a rintracciarlo. Il Dottor Hayden riuscirà a trovarlo. Il Dottor Hayden si sta trasferendo nel mainframe della tua nave. La struttura è molto simile alla sua. Questa ora... L'ultimo sacerdote si nasconde su Sentinel Prime. La Khan Maika vuole evitare assolutamente che lo troviamo. L'unico portale funzionante per Sentinel Prime è nel nucleo di Marte, nella città perduta di Abeth. Ti ho segnato dove si trova, ma per arrivare ci vorrà del tempo. Non c'è un modo semplice per accedere al nucleo di Marte. Non esistono percorsi conosciuti che portino lì. Il BFG-10.000, progettato dal Dottor Samuel Hayden, come una parte della difesa antidemoniaca. Ho compreso. Cerco le coordinate per il BFG-10.000. Non puoi risolvere facendo solo un buco sulla superficie di Marte. Portale pronto. Ssss. 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 Mani. Si. Si. Grazie per la visione Degli ostili! Si stanno avvicinando al BFG-10.000! Oh mio Dio! È lui! Hanno invaso i livelli inferiori! I piani alti dicono di farli passare! Cosa? E perché? Ehi! Tu chi sei? Non puoi stare! Qui! L'entrata al BFG-10.000 è dal lato opposto della struccura. Allerta! Il BFG-10.000 sta sparando. La fonte energetica del BFG-10.000 dovrebbe suscitarti interesse. Allerta! Lo slagger è in grado. Allerta! Il BFG-10.000 sta sparando. Allerta! Il BFG-10.000 sta sparando. Allerta! Il BFG-10.000 sta sparando! Allerta! Oh mio Dio! Allora! Alex, il BSG-4 è inattasperato. Alex, il BSG-4 sta sparando. Alletta, minaccia Slayer al livello massimo. Alletta, il BSG-100 ha sparato. Alletta, minaccia Slayer al livello massimo. Alletta, minaccia Slayer al livello massimo. L'art, minaccia Slayer al livello massimo. L'art ... L'articio costsrr. Minaccia Slayer ter 만들os di un Yangtia lifi cose. Avete un'emergenza? Divide il set. Aleta, il Vio di 10.000 sta sparando. 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 Allerta, il BFG 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 10.000 sta sparando. ALECTO, INDIAT DIGITI MILA TASPARATO. ALECTO, INDIAT DIGITI MILA TASPARATO. NON, NOLO. DANNI CRITICI. ALECTO, INDIAT DIGITI MILA TASPARATO. ALECTO, INDIAT DIGITI MILA TASPARATO. ALECTO, INDIAT DIGITI MILA TASPARATO. L'ingresso è bloccato. Sanno che stai provando a entrare. C'è una botola di manutenzione sul ponte. Allerta! Il BFG-1000 sta sparando. 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 Grazie a tutti. 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 Nell'unità di controllo c'è la fonte energetica del BFG 10.000. Adesso la passo per te. Ti dico che sta arrivando. Mi serve... Allerta, superficie di Marte agganciata. Mecanismo di sicurezza attivato. La capsula si autodistruggerà. Dovremmo proseguire. Pericolo. Il personale evacui sulla superficie di Marte. Lo slayer ha... No. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.